Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Faraday Protocol, un gioco tutto italiano sviluppato da appunto uno sviluppatore italiano. Questo mi è stato detto dal PR perché io non lo sapevo, infatti avevo fatto domanda per poter provare e portare questo gioco in video e mi hanno detto ma lo sai che sono italiani come te? Ok, allora ringrazio sia il PR che gli sviluppatori. Lo proviamo ed è un puzzle game, un puzzle game un po' particolare dove ci muoveremo in questi ambienti un po' che ricordano, secondo me anche un po' mist, con questo tool alieno cercando di manipolare l'ambiente e cercando di risolvere i vari puzzle. Lo analizziamo insieme, io con estrema imparzialità cercherò sempre comunque di darvi un mio parere. Graficamente è un Indie, quindi andiamo a vedere. C'è nulla di... Idrattazione organica, indetermina, coordinate raggiunte, dipendente 628C, sei giunto a destinazione. Voglio dare un'occhiata se c'è anche l'audio italiano, ma non credo. E anche qui vi chiedo di evitare i soliti commenti di è italiano, ma perché? Perché l'avevi fatto anch'io la stessa cosa? Ok. Tutti i sistemi sono operativi, sembra non esserci forma di vita senzienti in questo sito. Ma siamo su un sottomarino. Provare il sito, fare indagini sul segnale non identificato, attendere l'ordine di mobilitazione. Queste cose fanno impazzire. Queste cose ultramoderne... Uh, già qua cambia. Ah, siamo sbarcati con sto affare qua. Che adesso si è chiuso e ci ha lasciato in questo elemento alieno che ricorda anche un po' quelle ambientazioni di Bioshock, devo dire. Drone? È un drone che parla. Una lingua sconosciuta, ci sta scansionando. Così? C'è il DLSS in questo gioco che ho settato a qualità. Quindi tecnicamente dovrebbe upare la risoluzione finché può, finché me lo posso permettere, insomma, migliorare i riflessi di luce. Cioè, praticamente siamo sbar... Ma sembra un mondo virtuale questo. C'è quella cupola lì. Ma... E qua ricorda molto anche The Talos Principle. Può saltare. Ma... Musiche. I riflessi di luce. E qua... Ecco, cosa che non fa mai nessuno. Il fatto che uno dovrebbe... Perché dovrebbe abbattere le piante in questo modo. Ma... È bellissimo. Ci camminiamo sopra come se non provassimo dolore. Oddio, cos'è questo? Per farvela come diario, giunsi in questo posto, totalmente alieno, totalmente assettico. Mi trovai davanti tra le strutture. No, ci pensa già lui. Ho raggiunto la posizione sconosciuta da cui abbiamo captato il segnale. Sembra una stazione spaziale abbandonata. Non ho ancora incontrato nessuna forma di vita. Ma sembra che invece la flora sia sopravvissuta. E andiamo avanti. Vediamo, c'è quell'edificio lì o quell'edificio là. Però c'è qualcosa qui che dovremmo andare a vedere. Guarda che riflessi... Bellissimo. Questo dovrebbe essere una sorta di retracing. E questo? Saltiamo dentro? No, perché c'è il vetro. Sembra una sorta di generatore o di qualcosa del genere. Però qua sembra chiuso. Sembra tutto franato. Ok, no, non c'è nulla. Quindi dobbiamo per forza andare in uno dei due edifici lì. Di lato. Io non farò probabilmente tagli in questo video. Perché voglio farvi godere proprio di tutta la musica, di tutta l'ambientazione. Il gioco, come vi ho detto, costa 19,99 su Steam. E credo che sia un prezzo che ci può stare per gli appassionati di giochi di questo tipo. Chi cerca che si è spolpato mist, chi si è spolpato altro. Di simile, obduction, the witness. Shift scatta. Ok, si può scattare con shift. Scatta, vero. Devo fare veloce. Un modo per dirmi di fare veloce. Ok. Poi quando trovo le porte che si aprono... Fai impazzire. Struttura di test livello 1 aperta. 10 milioni... Vabbè, tordi giorni dall'ultimo tentativo. Buona fortuna, recluta. È un test. Questa deve essere una specie di struttura di prova. Ma per chi? O per cosa? Entro nello zigurat. Vediamo. Ci danno la pistola adesso. Sì, infatti eccola qua. Bellissima. Devo premere qualcosa? No. Devo... Interagisci. Ah, ma... Ok. Quindi, capitolo 1. Si chiama Bia Tool e si usa per assorbire e distribuire le energie in varie forme. Usalo con saggezza. Perfetto, grazie. Si può andare avanti. Sono entrato in uno degli edifici e una voce media istruzioni in cub vietiano. Da una posizione sconosciuta. Ok, siamo in questa struttura di test. Salve. Assorbo. Ah, tolgo... Oh, e poi rimetto l'energia... Uh, questa l'ho già vista. Non mi ricordo dove. Però... Vediamo. Mi... Ah, guarda. Devo rimettere l'energia lì? No. No. Valle. Devo rimettere l'energia lì. Mamma mia. Carino. Benvenuto da Ziggurat One. Per farcire superare gli ostacoli davanti a te. Devo dare l'energia a questo che dovrebbe far uscire una scala. Allora, noi siamo sorpresi perché ci hanno analizzato in una frazione di secondo. E queste, dice, sono voci pre-registrate. Quindi dobbiamo cercare di capire. Allora, intanto, qua ci sono tre simboli per poter aprire la porta. Dobbiamo trovare una fonte di energia. Ah, no, aspetta. Il sole, la clessitra e il tizio con le mani in alto. Allora. No, è uguale. È uguale. Il tizio con le mani in alto è uguale. Tutti e due. Allora. Clessita in mezzo, mi ha detto. Quindi vediamo un po' se riusciamo. Ok. Tizio con le mani in su. Ok. Tizio con le mani in su. Ok. Tecnicamente... Eh sì, infatti si è aperta la porta e da qua possiamo prenderla in energia. Ora, assorbiamo e la buttiamo lì. Così si apre la scala. Questo era prevedibile. Tuttavia, porteremo questo. Allora, porteremo riprendere l'energia da lì. Buttarla lì. E quindi questa diventa una piattaforma che mi porta su. Grazie. Grazie. Ho completato il test 1. Va bene. Ora, aspettate un attimo. Dove un'occhiata a cosa c'è qua. Perché? Allora, qua c'è qualcosa. Ah, posso sparare l'energia da lì. Assorbire l'energia da lì. E sparare da lì. Ok. Uh. Guarda. Mamma mia. Questo qua è un gioco veramente... veramente figo perché... Perché volete giocare quei cinque minuti, vi mettete lì e risolvete puzzle. Assorbo. Farò lì. Ok. Test 2 superato, direi. Brillantemente. Fammi riassorbire perché... Samai che... Serva. Ok. Andiamo avanti. L'unica pecca, ecco se devo dirlo, è un po' grezzo il fatto dei menu e dei sottotitoli. Quella è l'unica cosa che mi sento di dire ma... Camoli, il resto è decisamente notevole. Allora, poi se gli sviluppatori avranno piacere di vedere questo video... Sarà un onore per me. Posso assorbire... Ah, posso collegarlo a uno dei due. Quindi, per esempio, posso collegarlo lì e apro questa porta. Da qui assorbo questa energia qua. Dopodiché posso prendere... Questo... Ok, da lì posso assorbire... No, collego. Che non serve a una ceppa. Quindi assorbo. Collego questo a questo. E poi... Collego. E collego questo a questo. Olè. Get the hang of it. Perfetto. Sembra che io stia venendo sottoposto a un test. Recruiter. Recruitment. Ho trovato un reperto che si è diventato essere uno strumento essenziale per l'esplorazione dei dintorni. Ok, qui abbiamo dei simboli. Di là vedo la clessida. Quindi mi apre quello. Mi manca una fonte di energia per attivare questo. Quindi posso disattivarlo e metterlo qui. Ma... Ah, ok. Dovrò mettere la cosa in un ordine specifico. Che però non riesco a capire. Guarda che riflessi anche qua. Niente, andiamo ad approfondire qui. Mettendo il simbolo del... Ah, però ci sono un sacco di simboli. Quindi iniziamo ad andare a dare un'occhiata. Allora, scusate. Ma... Allora, devo mettere verde, rosso e blu. Verde, rosso e blu per sbloccare quella cosa lì. Ok. È tutto ciclico. Verde, rosso e blu. Ok. Diamolo. Allora, ma come faccio? Ah, ok. Ok. Allora. Verde. Rosso. No. No. Non ho quella che è. No. Allora, cerchiamo di capire. Ok. Allora, cerchiamo di fare un po' di esperimenti. Rosso, eh? Ah, che sia il contrario. Allora, sì, la rosso è qua. Ok. Allora, devo collegare. Allora, questo è il verde, rosso e blu, no? Il rosso è col secondo. Il verde è col primo. E il blu... Vediamo se l'abbiamo risolta la cosa. Però inizio già comunque ad avere un piano. Sì, infatti. Infatti. E qua abbiamo preso una fonte di energia in più che dovremmo poi distribuire su queste cose supplementari, diciamo, di fonti di energia, perché... Allora, rifornisco, poi devo mettere il simbolino del tizio, ok? E di qua il simbolino del... E di qua il simbolino del tipo... La libellula lì, ok? Però questo è bloccato. Quindi tecnicamente dovrei... Mettere la clessidera per potenziare questo e andare di qua. Allora, sarà speculare, quindi tecnicamente dovrei fare una cosa di questo tipo. Così, così, ok. E poi dall'altra faremo la stessa cosa, quindi... Rimettiamo ad aprire questa porta con l'omino in su. Io poi non continuerò tantissimo perché non voglio spoilerarvi troppo. Comunque lì c'è il triangolino, ok? E adesso facciamo la stessa cosa di là. Quindi clessidera e il triangolo. Ok, abbiamo attivato tutto. È tutto attivo, quindi tecnicamente dovrebbe essersi aperto, infatti... Questo... Premo... Ah, ok. Prendo l'energia. Sì, questo l'abbiamo attivato, quindi questa stanza qui l'abbiamo completata. Ah no, anche questo, devo premere. E che succede? Dovremmo aver fatto, no? Stanza qui è completa. A meno che... Allora, andiamo a dare un'occhiata se non è successo qualcosa, ma... Credo sia tutto a posto qua. Ok, abbiamo premuto i due tasti, quindi abbiamo... Possiamo portarci via l'energia. Va bene. Cioè, la cosa che mi spinge poi andare avanti in questi giochi è il fatto di vedere come va a finire. Nel senso che voglio capire cosa si sblocca poi una volta che si arriva in zona. Perché c'è sempre un ordine da fare. Ok, saremo qua. Mi porta su. Ponte. E abbiamo finito? Sì. Assorbo. Mi apre quello. Assorbo. Cavolo è questo? No, non si passa. Ah sì. Prenderla da qui e sperarla lì. Assorbo. Assorbo. Lì. Sparala. Assorbo. Sparò lì. Cioè, ho... Ho fatto fuori la... Ah sì, è vero. Ok. L'ho sparata qua. Ah, interessante. E così chiudo la porta. Ok. Questo simbolino del triangolo. Andiamo su a vedere. Succede. Simbolino del triangolo, abbiamo detto. Cale. Simbolino del... Ok. Ah, se io invece mettessi questo qui... No. E qua collego senza energia. Assorbo. Paoli. Ma mi servirà qua? Qua dovevamo parire, ma... No. Vai dammi questo, va. Sparò lì. No. Ah, devo sparare io. No, dovrei aprire e sparare a qualcos'altro. Però, vabbè, insomma. Non è... Non è... Non è assolutamente male, eh. Però devo... Devo studiarci un attimo. Perché... Secondo me... Secondo me... Allora, io sparoli... E si chiude. Assorbo. Sparoli. Tolgo qua. E ho l'energia... E ho l'energia completa. Però... Se io collegassi questo a questo... No, me lo apre, ma non mi dà l'accesso a questo, però... Assorbo... E ho lì... E chiudo. Assorbo questo. Dobbiamo andare indietro, ma... Ovviamente poi ci sarà da... Da studiarci un attimo. E non mi fa sparare a questo. Che? Ok, li abbiamo alimentati tutti e due, no? Però ho tolto la scala. Perché ho tolto la scala? Che devo rimetterla lì. Ok. No, non si passa. Però, dai, devo dire che... Non è assolutamente male. Bisogna perdersi via. A me è piaciuto tantissimo po' Attal, ad esempio. Quindi che non ha molto a che fare con questo. Però il concetto di vagare così... Con... Questa, diciamo, grafica o stile... O gameplay... Da... Da FPS... Non è male. Non è assolutamente male. Però il fatto di vedere porte a parirsi mi entusiasma sempre. Ho questo piccolo problema. Io ringrazio ancora il PR, gli sviluppatori, per avermi permesso di portare questo titolo italiano. E spero vi piaccia. E spero vi sia piaciuto. E spero vi invogli magari a fare l'acquisto, insomma, se vi piacciono questi giochi un po' alla... Inizio a elencare. Mister, Obduction, The Witness. Forse più anche un Talos Principle, un Portal. Insomma, un mix di tanti generi che graficamente è carino. Cioè, ha qualche alto e basso con il menu. Quello senza dubbio è questo un menu classico. Con i soliti menu sembra, diciamo, più un preset questo. Non mi fanno impazzire, diciamo, come menu. Però, cavoli, carino. È doppiato addirittura in inglese. Il gioco in inglese, non c'è da capire, è un gioco del genere. Comunque, c'è questo allone di mistero che poi ci porterà sicuramente a scoprire qualcosa di molto interessante. 19,99 su Steam, vi ripeto ancora una volta. Questo era Faraday Protocol e è in giro da agosto il titolo. Quindi ha comunque delle recensioni positive. Non ne ha tante, quindi vi invito, se vi va, di provare la demo del gioco. Poi, eventualmente, lo potete anche acquistare poi su Steam a 19,99. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao.